pensate anche voi che viviamo in un'epoca in cui il multitasking è assolutamente necessario cioè la necessità di dover fare più cose contemporaneamente o magari pensate voi stessi di essere degli ottimi multitasker di poter gestire più cose contemporaneamente ecco forse è il caso di capire meglio come funzioni in realtà la nostra attenzione io sono massimo polidoro mi occupo da tanto tempo di argomenti che riguardano il mondo della scienza della psicologia e ne ho scritto in tanti libri e l'ultimo dei quali è proprio geniale 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare chi è questo mago leggendario è una figura effettivamente straordinaria è un incrocio tra uno scienziato e un mago si chiamava james randy e per tanti anni ha fatto proprio questo ha fatto l'illusionista prestigiatore che mettevi in scena spettacoli di magia incredibili e poi ha dedicato questa sua capacità di creare inganni a scopo di inganni quando venivano presentati da sedicenti medium sensitivi o altri che vantavano facoltà paranormali ma in realtà si servivano di trucchi ebbene io ho avuto la fortuna di essere un po' l'apprendista nella mia giovinezza di questa figura straordinaria grazie a una borsa di studio che mi ha dato piero angela ho potuto andare negli stati uniti e avere questo questo personaggio davvero geniale per l'appunto come maestro in quel tempo che ho trascorso con lui ma poi anche in tutti gli anni che sono seguiti perché abbiamo continuato a collaborare ad essere vicini ho avuto davvero l'occasione di vedere come lavora una persona così geniale e di imparare da lui tante lezioni una di queste riguarda proprio l'attenzione e ricordo per esempio che capitava tante volte quando eravamo nel nel suo studio a lavorare che io mi così mi esaltassi perché ero appassionato degli argomenti misteriosi di cui lui si occupava e quindi passando tempo nel suo archivio tra le sue carte tra i suoi libri trovavo delle cose meravigliose ogni cinque minuti andavo da lui guarda cosa ho trovato ma questa cosa me la spieghi e lui si doveva interrompere per quello che faceva e spiegarmi finché a un certo punto ha trovato così un rimedio per questo mio entusiasmo travolgente e ogni volta che andavo da lui mi diceva racconta fino a 20 dopo ne parliamo e tante volte questo era sufficiente a farmi pensare a qualcos'altro allontanarmi poi è successo che siamo andati al cinema a vedere un film che era appena uscito cioè indiana jones l'ultima crociata dove c'è una scena che sembrava identica in cui il padre di indiana jones interpretato da sean connery all'epoca si trovava suo figlio giovane indiana jones giovane che gli correva appresso per dirgli guarda papà guarda questo e indiana jones il padre di indiana jones gli diceva conta fino a 10 in greco poi ne riparliamo e la scena era talmente simile che siamo scoppiati a ridere però questo cosa voleva dire che non riusciva a gestire due cose contemporaneamente una figura così geniale quindi non era un multitasker eppure la genialità e il multitasking dovrebbero andare a pari passo o almeno questo è quello che siamo abituati a pensare siamo abituati a credere allora la prima cosa che dobbiamo capire in realtà è come funziona la nostra attenzione c'è uno studio dell'università della california a san diego che ha calcolato che noi ogni giorno siamo in qualche modo bombardati da una quantità di immagini di informazioni di notizie stimabile su centomila immagini al giorno 34 gigabyte sono davvero quantità spaventose no ed è chiaro che noi non possiamo gestire tutte queste informazioni perché altrimenti davvero andremmo in quello che si chiama information overload cioè sovraccarico cognitivo ed è quello che in realtà rischiamo tutti i giorni la quantità di informazioni di notizie di post di segnalazioni che ci arrivano occupano la nostra mente la nostra attenzione e ci distraggono da quello che stiamo facendo ecco se noi pensiamo che ci siamo evoluti per essere pronti a gestire questo tipo di informazioni questo tipo di flusso di informazioni forse ci stiamo illudendo perché noi dobbiamo pensare che il cervello che ci ritroviamo nella scatola cranica è qualcosa di straordinario di eccezionale che l'evoluzione ha costruito nell'arco di centinaia di migliaia di anni se parliamo di homo sapiens e quindi ci troviamo con un cervello che è molto simile se non identico a quello dei nostri antenati che fino a 15 mila anni fa vivevano di caccia di raccolta di frutta e verdura e che quindi avevano sicuramente un mondo e un contesto completamente diverso dal nostro ma noi siamo ancora con quel tipo lì di cervello non abbiamo cambiato la nostra scatola cranica non abbiamo fatto un upgrade del cervello però ci troviamo a vivere in situazioni che sono radicalmente diverse e questo significa che le difficoltà che incontriamo possono essere di tanti tipi cioè se noi davvero pensiamo di poter notare più cose contemporaneamente di poterne tenere traccia e di poterle gestire bene stiamo sbagliando c'è un altro bel esperimento che vorrei proporre voi ci state seguendo in questo momento magari vi è capitato di vederlo in altri contesti ma che ci aiuta a capire molto bene i nostri limiti perché i limiti effettivamente ci sono e sono tanti e sono naturali sono necessari come vedremo allora vi mostrerò adesso un breve video dura davvero pochi secondi in cui vedrete che ci sono due squadre di ragazzi che si passano una palla alcuni hanno una maglietta bianca altri una maglietta nera il vostro compito che sembra ripeto molto facile ma vedrete è facile essere distratti è quello di contare i passaggi di palla tra i ragazzi che hanno una maglietta bianca pochi secondi vedrete sembra molto facile ma alla fine se siete anche più persone a seguire questa questa trasmissione in questo istante e potete farlo insieme in silenzio ognuno conta per sé alla fine vedete se siete d'accordo e se avete contato lo stesso numero di passaggi vi mostro il video pronti via benissimo allora avete contato quanti passaggi vi sono venuti siete riusciti a contare alcuni dicono 15 altri dicono 16 altri 17 18 19 in genere si oscilla tra i 15 e i 19 probabilmente anche voi avete contato un numero compreso in questo intervallo e la cosa è abbastanza strana perché dura pochi secondi passaggi di palla sono quelli come mai non ci troviamo tutti d'accordo sullo stesso numero di passaggi questa prima domanda la seconda domanda è quanti di voi hanno visto il gorilla e so che qualcuno a casa mi starà guardando perplesso e dirà ma che gorilla di cosa sta parlando nel filmato che avete appena visto oltre ai ragazzi che si passavano la palla è rientrato a un certo punto un tizio vestito da gorilla che si è battuto il petto e poi è uscito da un'altra parte non mi credete giustamente e quindi vi facciamo rivedere il filmato ecco questa seconda volta senza contare i passaggi di palla sono sicuro che il gorilla l'avete visto come mai allora la prima volta non l'abbiamo visto non l'abbiamo visto per il motivo che dicevamo prima che noi non siamo costruiti per notare per cogliere tutto quello che ci accade intorno come dicevamo l'evoluzione ha favorito il cervello che ci ritroviamo nella testa per semplificarci la vita per renderci le cose un po più semplici cioè per focalizzare la nostra attenzione su ciò che in quel momento ci sembra particolarmente importante tralasciando quello che sembra poco importante e quindi se io vi dico adesso contate i passaggi di palla e quello è il compito che vi sembra più importante e non notate nulla di quello che accade intorno addirittura non notate un tizio che entra vestito da gorilla quindi direi che ci possono sfuggire cose davvero rilevanti no pensate a quando succede una rapina per la strada o quando c'è un incidente e si chiede ai testimoni cosa avete visto beh i testimoni racconteranno forse qualcosa che pensano di aver visto che hanno sentito dire o che la loro memoria ricostruirà nel tempo ma difficilmente ci diranno esattamente che cosa è accaduto perché nessuno di noi attraversa la strada o cammina pronto a cogliere qualunque indizio di un eventuale incidente o rapina noi stiamo pensando ai fatti nostri andiamo per la strada improvvisamente sentiamo un rumore sentiamo qualcosa uno schianto delle urla ci giriamo e vediamo del movimento qualcosa e sulla base di quello poi a posteriori ricostruiremo una scena ricostruiremo l'accaduto e potremmo magari dare una testimonianza che chissà quanto è veramente affidabile quindi questo ci dice molto questo piccolo esperimento ci dice molto in realtà sui limiti della nostra mente e del nostro cervello quindi noi se cerchiamo di sforzarci di più non non diventiamo più abili a cogliere i dettagli voi sapete che c'è una figura leggendaria della letteratura che è Sherlock Holmes il detective logico e razionale per eccellenza e sapete che nelle avventure di Sherlock Holmes alla fine quando risolve i casi e scopre il colpevole il suo collega il dottor Watson che gli sta sempre accanto rimane sempre sbalordito e dice ma com'è ma io ero accanto lei ho visto tutto quello che ha visto lei ho sentito le testimonianze degli stessi testimoni eppure lei ha risolto il caso io non ho capito niente come mai ecco pensare che è la risposta di Holmes qual è la risposta di Holmes è beh caro Watson lei guarda ma non vede ecco pensare che noi possiamo vedere proprio come Holmes riesce a vedere tutti i dettagli importanti è ancora una volta un'illusione perché gli Sherlock Holmes esistono nella letteratura nella fiction al cinema nella realtà siamo tutti ahimè dottor Watson proprio perché abbiamo questo tipo di limiti ma ripeto è un vantaggio nella nostra vita sarebbe troppo pesante troppo oneroso dover gestire tutte le informazioni che ci arrivano dal mondo che ci circonda e per questo la realtà ci viene semplificata il più delle volte questo è importante e ci aiuta qualche volta ci potrà in inganno e arriviamo così al multitasking multitasking tante volte ci viene di dire sì davvero stai dicendo che multitasking forse non è possibile però a me capita di camminare per strada e parlare al telefono allo stesso tempo sono due attività in contemporanea quindi riusciamo a farle oppure di essere davanti alla televisione e di cucire qualcosa magari lavorare a maglia o magari pensiamo ai musicisti il pianista che riesce a suonare con le mani e a compiere movimenti diversi con una mano con l'altra sia che un pianista ma anche un chitarrista insomma come è possibile non è multitasking questo per certi aspetti sì però sono compiti in qualche modo dove uno dei due è molto ci viene molto naturale ci viene in maniera automatica noi camminiamo per strada percorrendo strade che conosciamo e riusciamo a mettere il pilota automatico e a concentrarci sulla conversazione al telefono ma se per caso ci troviamo in una strada che non conosciamo o se è cambiato qualcosa intorno a noi rischiamo di perderci se non prestiamo attenzione a dove andiamo o addirittura rischiamo di passare con il rosso e le cose si mettono davvero male o pensiamo davanti alla televisione si si può svolgere qualche attività magari si si può stirare si può cucire ma se il film o quello che stiamo seguendo ci distrae ci coinvolge troppo rischiamo di bruciare la camicia o di sbagliare i punti il musicista è vero che riesce a concentrarsi non tanto sui movimenti ma sull'interpretazione di quello che esegue perché ha ripetuto talmente tante volte i suoi movimenti le due mani prima con una poi con l'altra è un lavoro lunghissimo quello che portano il musicista a eseguire alla perfezione un pezzo concentrandosi solo a quel punto sull'interpretazione non sui movimenti ma proprio perché ha richiesto tutto questo tempo questa preparazione quindi in questi contesti potremmo sì dire che funziona il multitasking anche se non è propriamente così in tutti gli altri in cui magari ci troviamo a lavorare al computer ma suona il telefono rispondiamo e continuiamo a lavorare o magari rispondiamo intanto a una mail o mandiamo un messaggio whatsapp o parliamo con qualcuno che sta passando ecco lì invece rischiamo di finire male perché il nostro cervello si sforza molto di più e rischia di perdere la concentrazione su ciò che è stata facendo è stato calcolato che per passare da un compito all'altro si impiega circa poi alla fine per completare quei due compiti il 50 per cento di tempo in più c'è un altro studio dell'università di stanford che ci dimostra come le persone che pensano di essere bravi multitasker in realtà si rivelano molto meno produttive di quelle che non si distraggono su più compiti in una volta e inoltre da questo studio viene fuori anche che chi si impegna e pensa di appunto di diventare un multitasker spesso perde capacità empatica perde la capacità di ragionare in certi contesti in maniera razionale insomma perde tante cose non ne acquisisce di nuove allora il problema a questo punto è chiaro che diventa quello di capire come se ne esce come come si fa come si può rimediare a questi limiti beh si tratta di prendersi conto intanto come prima cosa che noi abbiamo questi limiti e non illudersi di poter eseguire più cose bene contemporaneamente e poi il lavoro importante da fare proprio quello di individuare le priorità su cui concentrare quelle risorse di attenzione quelle risorse cognitive che non sono infinite ogni volta che noi ci concentriamo su qualcosa bruciamo delle energie potrebbe degli zuccheri e quindi le nostre capacità si riducono col passare della giornata illudersi che siano infinite porta poi a risvegli anche abbastanza tristi no bisogna proprio rendersi conto dei limiti concentrare l'attenzione e imparare a individuare le priorità come si fa a individuare le priorità beh quello è un altro argomento che richiederebbe un'altra lezione ma che chiaramente poi nel libro geniale trovate approfondito così come ci sono tutte le altre lezioni che ho potuto imparare da rendi quindi il mio suggerimento è sempre quello di fronte quando si sentono affermazioni straordinarie anche sulle potenzialità della nostra mente noi abbiamo tante potenzialità potremmo sfruttare meglio i nostri talenti ma quando sentiamo qualcuno che ci dice ma sapete noi usiamo solo il 10 per cento o il 15 per cento o il 5 per cento del nostro cervello sappiate che sta dicendo una grande fesseria perché noi lo usiamo tutto quanto il nostro cervello se non fosse così vuol dire che abbiamo un danno e le persone che hanno un danno cerebrale purtroppo non vivono una vita una vita piena una vita sana e addirittura non possono fare delle cose banalissime quindi noi lo usiamo tutto chi dice così o ha frainteso questa dichiarazione o non ha capito che significa magari che noi usiamo non sfruttiamo appieno le nostre potenzialità ma noi cervello lo usiamo tutto ha dei limiti di cui dobbiamo essere consapevoli e quindi la prossima volta che qualcuno ci racconterà qualcosa di straordinario che magari ci può insegnare a fare o imparare seguendo chissà quali corsi ecco teniamo sempre una mente aperta ecco di fronte a queste possibilità però mi raccomando non così aperta che il cervello caschi per terra a presto